Vero è che siamo sotto San Valentino e che l'amore non corrisposto spesso è doloroso, però chiedere indietro un regalo alla propria amata non è certamente parte del galateo. Quella di Beppe Grillo da Bologna è stata, lo vogliamo credere, solo la reazione scomposta di chi compra rose rosse con la speranza di ricevere un sì, ma poi vede la promessa sposa andare via con un altro. Perché, se così non fosse, le parole pronunciate sul palco chiedendo indietro agli abruzzesi con una sola B, i 700.000 euro che i consiglieri regionali si sono tagliati dagli stipendi per donarli alla collettività, andrebbero catalogate sotto il nome di voto di scambio, un doubt des vietato dalla legge e anche dal buon gusto. In democrazia il popolo è sovrano, questa è la regola aurea scritta a caratteri cubitali nel primo articolo della nostra Costituzione e le sue decisioni dunque vanno rispettate. Troppo comodo esultare quando tutto va bene e si sente il sostegno del popolo, per poi ribaltare la frittata al momento in cui una parte di quell'elettorato ti volta le spalle. È una questione di stile. Quando si perde e i cittadini si esprimono, si deve accettare la sconfitta e magari fare autocritica. Quello che a caldo lunedì notte proprio non è riuscita a fare la candidata presidente Sara Marcozzi, che se l'è presa prima con gli altri partiti, poi con le liste civetta che minaccerebbero la democrazia. La stessa che però consente al Movimento 5 Stelle con il 20% di avere più seggi in consiglio regionale rispetto a quelli che ha la coalizione di Legnini che ha ottenuto il 31%. Anche quelle liste che la Marcozzi definisce civetta però sono la democrazia un gioco a cui ciascuno può partecipare seguendo le sue convinzioni, basta che esse rispettino le regole. Ed infatti a breve il Movimento 5 Stelle con buona pace del suo fondatore Beppe Grillo e dell'ala dura e pura pentastellata potrebbe subire una mutazione genetica. Il capo Luigi Di Maio sembra voler aprire proprio a quelle liste civetta diventate nel frattempo civiche e passare alla modalità 2.0 amministrative. Sarà l'effetto che fa stare al governo oppure la considerazione normale in politica e guardando la storia democratica italiana che da soli molto spesso non si va da nessuna parte. Ah e i 700 mila euro da restituire? Caro Beppe poi in fondo tanto un regalo non sono stati, fino a prova contraria sono soldi pubblici, soldi anche degli abruzzesi.